La partita di domenica a Selvapiana è senz'altro quella con maggior blasone da oltre otto anni ad oggi. Per trovare un'altra gara d'elitti in un campionato professionistico dobbiamo tornare a Campobasso-Salernitana dal 10 marzo 2013, in match vinto da Rosso Blu per 1-0. Il blasone dell'avversario, l'aumento della capienza dello stadio e lo stato di forma del Campobasso rendono davvero speciale l'appuntamento di domenica. Nel dettaglio il Bari è una società storica del calcio italiano con oltre 30 campionati di Serie A. Dopo il fallimento del 2018 le redini sono passate alla famiglia di Laurentiis, la nuova società. Dopo aver vinto subito campionato di Serie D, ha provato nelle ultime due stagioni la risalita in Serie B, fallita in entrambe le circostanze nei play-off. Questa sembra la stagione giusta per rientrare nel calcio che conta 20 punti in classifica nelle prime otto gare con un vantaggio di 6 punti sulla seconda Catanzaro. La squadra di Michele Mignani viaggia spedita verso la Serie B, tutte vittorie e due pareggi maturati contro Potenza e Paganese. La squadra non ha nulla a che vedere con il campionato. Per valori tecnici e di esperienza basti pensare che il molisano Mirko Antenucci, alla terza stagione con i Galletti, non ha trovato posto dal primo minuto negli ultimi tre successi. Mignani sembra aver trovato la quadratura con botta trequartista alle spalle di Simeri e Cheddira con Marras e Antenucci alternative a gara in corso. Out per infortunio il centrocapista Scavone a segno nelle ultime due gare. Distorsione alla caviglia e circa un mese di stop. Fattore Selvapiana si preannuncia un sold out o quasi, almeno è quello che ci auguriamo. I tifosi del lupo si stanno mobilitando da ogni parte d'Italia per non perdere la partita dal vivo. Anche in città si respira aria da grande occasione, la tifoseria è pronta per sostenere al massimo della capienza prevista la squadra. Un'occasione che Campobasso e tifosi meritano dopo tanti troppi anni di sofferenza nei campionati di quarta serie. Già venduti 2.600 biglietti con l'auspicio che si possa salire considerevolmente anche in vista di domenica. Il terzo elemento è lo stato psicofisico dei ragazzi di Cudini. Dal punto di vista mentale queste gare sono le più semplici da affrontare. Nessuno chiede risultato, non ci sono urgenze di classifica, la mente è libera, c'è tutto da guadagnare e nulla da perdere. Quelle partite dove le motivazioni nascono da sole si respira l'aria del grande evento nel rispetto massimo di un avversario sicuramente più forte. Inoltre dal punto di vista fisico i ragazzi di Cudini sono in grandissima forma sia contro la Paganese che con il Monopoli. La velocità di corriera era raddoppiata rispetto agli avversari. L'intensità che oggi è il campo basso può creare problemi a tutti, su questo non abbiamo dubbi. Poi ovviamente sarà il campo ad offrire il responso, ma siamo certi che i lupi giocheranno una partita di assoluto livello. Sulla squadra quasi certi recuperi di Fabriani e Mena. Il tecnico marchigiano potrebbe nuovamente confermare l'undici che ha ottenuto le due vittorie consecutive.